Questo gioco dispone di una funzione di... Non mi fai leggere, non mi fai leggere Ok Resident Evil Village Io lo gioco, ok, mouse e pastiera, tu dici? Sì, facciamo mouse e pastiera Nuova partita Opzioni, vabbè, penso sia tutto ormai fatto Nuova partita Difficoltà Villaggio delle ombre Sopravvivi all'impossibile Sta minchia Io andrei su normale Che dite? Rimpiangerai di aver scelto questa opzione Estrema, vai, rimpiango, rimpiango tutto No, non lo fare, 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 non lo fare Silenzio, silenzio, silenzio Che poi devo metterle su YouTube Sei un coglione Ah va, ah, minchia bro, che poi mi rovine il VOD Tuttavia la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio E c'è spugli e spoglie Determinata a trovare delle bacche La piccola peste sfuggì al controllo della madre E sparì inghiottita dagli alberi Le grida preoccupate della madre svanivano Mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti Fino al cuore della foresta Avvertendo sguardi misteriosi Cos'è una favola? Ricorda i nostri spaventosi delle favole E la sua vita diventa secca Apparvi allora il gran Pipistro La salutò con calore Pipistro Da fare su TikTok Lei beve il suo sangue denso e scuro E sorrise con gioia Tre fratelli Mentre attraversava un cimitero Minacciosi nuvoi In teoria è il continuo di Resident Evil 7 questo Fatto di nebbia Su Pila Pila e bad La piccola si vestì e sorrise con gioia Ok Navigò attraverso acque scure e nefaste Su una barca che sperava la portasse a casa Ma la fame era implacabile E il suo animo abilito Grazie del follow Apparvi allora il pesce reale Che le offrì una delle sue tante pinne Vieni bambina Riempiti lo stomaco Lei mangiò Gli ha dato la pinna Continuando a camminare Giunse nello scuro cuore della foresta Apparvi allora il destriero d'acciaio Con un splendido rocchetto d'oro La creatura non disse nulla Ma la bimba si avvicinò E afferrò ciò che pensava fosse un altro dono Eh voi vi tocco tutta la mano Eh appunto si incazza Il cavallo si infuriò E convocò gli altri mostri Un vento selvaggio si alzò tra le bestie Terrorizzando a morte la fanciulla Scusa ma questi mostri ci sono nel gioco Apparvi una strega Tenebrosa E regale Eh palo più o meno me lo ricordo Zafiro il 7 Allora noi entriamo nella casa Dove c'erano tutta la famiglia malata Così poi alla fine Era tutto risvegliato Ma questa è cosa Ma che grafica Com'è come si chiamava Mia Guarda che ha fatto bene Ragazzi ma che grafica Cioè tu al tuo figlio Gli racconti sta favola di mostre Bravo Riccielo Ethan Grazie bagunio del follow Che graficamente Ma è cambiata Mia tra l'altro Che non capisce ancora Grazie al cielo Ci siamo trasferiti per proteggerla Ha appena detto a sua figlia Che non capisce un cazzo Ma non ti incazzare Mia Lascia stare Scusami Ma non sono paranoico Sono solo prudente Certo Allora Metti a letto Qua figlia Con prudenza Bastarda Le donne Sempre così A fotterci Dai vai a fare la minestra Oh ma raga Ma una grafica assurda Ma sono così Giochi nuovi ormai Non distingui Grazie del follow Ok Già posso partire Attenzione Siamo noi La metto a letto La metto a letto Tranquilla Allora vediamo se posso interagire Un po' con le cose Non si può fare un cazzo Non c'è una vita Non so se gioca Aspetta un po' la sensibilità Raga troppo Io mi devo avvicinare Tra l'altro Mamma mia Gioco da mossa testiera Abituato col pad Raga Chilometri dalla scrivania Allora Qui non posso interagire Con niente Ok Vediamo cosa si sta preparando Hai fame? No? Magari più tardi Devi metterla a letto Che bellozio però ragazzi Sono sistemati alla fine Volevo solo guardarti Mentre cucini Ok questa Mi sembra che l'aveva capita Sembra che l'aveva capita Quando si è messa a ridere Era inquietante Allora dov'è la camera del bambino? Qui? È una bella casa Si sono sistemati Ma non era che la psicopatica Che mi ha tagliato la mano Nel set Quando farà più caldo Andremo a passeggio Si Boh Domano a stesso orario Va bene? Non ti preoccupare Che adesso incontriamo Tutti i mostri I demoni del mondo Figlia mia E non potrò mai portarti a passeggio Capito? Se tu ho cotati C'è la panza rete Fala brava Brava E tu a mamma Quella favola Fa troppa paura Però ragazzi È fatto da dio Eh lo mio Enzo killer Cosa speciale Allora Andiamo avanti Qua dove si va? Il cesso Ti metto sul cesso Piccola mia No No Andiamo a letto Aspetta che vedo cosa c'è qui Le medicine di mia È sotto stretto controllo Dei tempi dell'incidente Ah si prende le medicine È psicopatica Vuoi una medicina figlia mia? No No Che poi diventa come a tomate Sa cosa ha fatto Tu non sai che fece Tempo fa Mi taglia la mano Tinta Tinta No 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 Tu sei di papà Va bene? Ok Dobbiamo trattarla con cura Toma è tinta È una cosa tinta Che questa qui è la tua stanza? No Eh però almeno un indicatore Eh sì ma non tossire in pace a tua figlia Siamo periodo di covid Non ci sa mai Mai ridisgrazie Ok Aspetta Stavo mettendo a letto Sono un coglione Perdonatemi Perdonatemi Stavo mettendo a letto Ecco la culla Vieni qua Ecco tesoro mio Non preoccuparti Che bella Sarò al piano di sotto Ti proteggo io dai mostri di quella strana palla Sì sì ha detto così pure sul primo figlia mia E poi gli hanno tagliato la mano Sparta tua madre Puttana E adesso abbiamo nostra moglie da sola che sta cucinando Andiamo subito a farci fare un bel panino Andiamo Ehi Cos'è? Sì dorme come Come un bambino Madonna dopo questo raga lo chiudo sto gioco Dorme come un bambino Tieni giù le mani Hai angolpito il cuppino E ciorba di legume Si proteggo dei mostri Wow Ti stai integrando bene vero? Anche il vino è di qui Ma se continui a fare il musone tutta la sera Non credo che te lo darò Cosa? No 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 Ah il vino Pensavo Sì sì è la prima volta È successo tutto in fretta Almeno ora siamo insieme Tu Io Rosa Vedrai che Adesso andrà Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? Vabbè fottatile Non riesco a capire perché tu sia così Oh Mia Sta giù Ah non ci è affatto un cazzo No Il vino Porca puttana il vino Artemio E' lui? Artemio Ma non è quello Mi dispiace No Ma perché? Ancora era vivo Perchè? Il panico Il panico Però graficamente ragazzi è assurdo comunque Minchia Li vai a vedere magari i pila Che devono crescere ancora Non so se Live rende Forza cammina Oh calma Tana male Ma che è? Che è il gulag Il gulag ragazzi Il gulag Che cazzo vuoi fare con mia figlia? Consegna il sicuro Come consegna? Portatelo via Togli le mani di dosso Ethan No Preciso il gulag Perfetto I denti Stesso cosa Però mica ragazzi Fuori di qui Ma perchè tutto questo? Beh devono farlo partire l'horror Dai mica Avevo troppo brutto Era una famiglia contenta Volevo Trovare Diciamo Trovare una soluzione Entreranno solo in cugina Cioè Niente Dove sono? Salve signor Winters I risultati di sua figlia sono pronti Io vorrei discuterne con lei Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo Ci saremo Era la dottoressa Abbiamo un appuntamento Al buio O la dottoressa Sì positiva Ok Ne abbiamo già parlato Ne abbiamo già parlato Eh certo Però il vino Raga Hanno sparato al vino Ma non mi preoccupa Rosa E quindi cosa ti preoccupa? Senti Rosa starà bene Ne sono certo Che cos'altro c'è? Penso A noi due Sì ma calma te Penso A te Cazzo vuoi? E non capisco Di che stai parlando? Chiaro il personaggio nostro È un coglione Raga Coraggio Parlami Merda Devo rispondere Si incazza Che sembra la mia ragazza Ma io sei in chat Sono cazzi miei Ah mi hanno lasciato a terra in casa praticamente Non mi hanno portato da qualche parte Ok Pensavo di essere nel Google Che tipo magari sfidavi un altro E poi respawnavi con tua moglie viva E potevate Continuare il discorso Ma se no Ma hanno bruciato la casa Cos'è? Sembra carbonizzato questo Prendi il telefono Si sposti Ma sono i soldati Dov'è Chris Redfield E Rose Chi fa? Questo è un canale riservato Non ho avuto la cazza Non ho avuto la cazza Non ho avuto la cazza Si sente un cazzo Cazzo Ah quindi è andata male Comunque anche a loro È successo qui No dove mi chiede No no Vabbè basta No 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 Bruttissimo Intanto prendi il telefono Non funziona Non prendere il telefono Cos'è qua? Obiettivi della missione Eliminare il bersaglio Ah è la missione che avevano loro Portare via Rosemary E Ethan Winter Che però graficamente Ragazzi A parte non vedo un cazzo Mi spunta qualcosa Sono morto Io ve lo dico Già l'ansia Non fare così Capisco che c'è freddo Dai C'è qualcuno che mi osserva nell'ombra Questa non è Dai non può essere il sito c Avrò sbagliato Andiamo da una Vado Piano Piano Che filo spinata Sei un coglione Ma veramente Il personale di Resident Evil È coglione Anche nel set era così Sempre lui infatti Proprio Ethan E' fatto proprio Papà Vabbè dai Guardiamo il lato positivo Può essere Siamo in una foresta di nevata Con piccole valanghe E le valanghe Causano anche La morte dei corvi Ovviamente Perché magari si trovavano lì Si sono sbudellati Sempre con la neve Due corvi Tre Qua Un paio di corvi Caputana E si impiccano Perché alcuni corvi Stanchi di morire Con le valanghe Decidevano Di porre fine Alle loro sofferenze Quindi con i nidi Si facevano le corde E E si mettevano così Vedi più di un corpo E poi giustamente Gli altri prendevano spu Ma quanti minchia Ce ne sono di corvi Mamma mia Io sono di corvi in faccia Voglio uccelli Porca puttana Tua sorella Minchia raga Quello era vivo Era Artemio Ah ma è vivo Mamma mia raga È brutto Brutto Andiamo avanti No vabbè Ma quello non era un corvo Raga Non era un corvo E poi che io devo andare Per forza da lui Raga Tu immaginatevi Immedesimatevi un po' Nel personaggio Tu sei in una situazione Di merda Fino all'aperto Puoi andare ovunque Ma segui un sentiero Che già ti dà gli indizi Vai corvi Diversi indizi Che ti dicono Vai da un'altra parte Ma noi siamo coglioni Capito Quindi dobbiamo andare lì Guarda Pure la fauna Del luogo Sta morendo pure Niente Guarda Qua ci sono pure Degli scatole Di gente Che è andato qui Ed è morta Una casa Nel blocco Che fai Non ci entri Ma posso almeno Ah c'è una porta Ovviamente Si entra dalla porta Perdonatemi Almeno dimmi che hai una torcia Ti prego Allora ecco qua Prendi Prendi qua Ah mi sembra un'arma Mi chiede una scopa E prendi qualcosa Non si può prendere niente Ma sono evidenziate le cose Che si possono interagire O devo sbattere la testa ovunque Ma queste cosa sono Bocce di vasellina Con Cera dell'acqua Cera dell'acqua Quanto si può fare un cazzo Dei fiori bellissimi Questa sarà la capanna Di Artemio Qua dormi Porca puttana Non vedo un cazzo Dobbiamo prendere una torcia Allora l'armadio Vediamo se c'è qualcosa Nell'armadio Volevo aprire così Che mi viene l'ansia Aprile e basta Ok Non c'è un cazzo Eh no Eh no no Io vado indietro dai corvi Cos'è questo cosmo Una volpe Balsamata Un gufo Un gervo Cos'è Perché devo andare Sulle cantine Mamma mia personaggio Ignorante Che si apre St'armadio Un topo Era un cazzo Di topo Carlo Una testa raglia C'abbiamo C'è una bella Testa raglia Bellissimo Dove andare avanti Non le ho buttate A terra io Vi giuro Mai Ma cosa c'è qua dietro Vabbè ma qua Stiamo andando tipo Da una setta Io ho visto solo Il trailer Ragazzi sto gioco Ho visto che c'era Un'altra tipo Siamet E' fatta di sangue Già lo so Un topo No ma è Indominato bro Un topo E allora è Artemio cazzo Li addestra E poi li manda Sul Rebir Siamo su una cantina Si sentono rumori Di merda E adesso Adesso dobbiamo Per forza Ritornare indietro Grazie E' ovvio Che c'è qualcosa Lo sapevo Minchia ragazzi Sono un beggente C'è Godzilla C'è Godzilla Sopra la casa Per forza Io mi auguro Che sia una valanga Per forza O è una valanga O è Godzilla No ma come minchia esco Non esco Non esco Vado Vado qui No il sangue Non c'era Prima non l'ho notato io Personaggio Non vedi Ethan Che devi andartene Bello Frisco E' fresco E' fresco qua Ma dai Veloce Mamma mia Negli horror Ma qualcuno qua è entrato Raga Ha fatto un bordello In 0,3 secondi Non è manco entrato Dalla porta Cioè qua Qua veramente C'è Godzilla Ah è diventato Giorno Ah vabbè Dai almeno una cosa Positiva Ok W scavalchi Sei praticamente Camminando Ok Le scavalca In automatico Questo è un bene Ok saliamo Opla Minchia ragazzi Non è fatto male Molti Mi dicevate Tipo che magari Facevano meno paura Però finora Ragazzi L'ansia te la da Cioè se sei di giorno Fatto no Me lo chiedo anche io Ethan Quello è il corvo Forse si sarà liberato Dalla corda Se è sempre lui Seguiamo il sentiero Ovviamente ragazzi Se voi ci fate caso Siamo in un posto di merda In un villaggio di merda Il personaggio dice Andiamo lì Capito Perché Perché dobbiamo Un cavallo Un cavallo così Vedi Poi vedete Il personaggio Vede questi indizi E dice Andiamo ancora Dai dai Tro... C'è ancora Artemio in giro Andiamo Si è aperto da sola Pura dai Non c'è nessuno Quando sono negli edifici Ragazzi Si sentono rumori brutti Proprio fuori Non so C'è Godzilla E King Kong Che si scontrano Anche qui Aspetta Ma non era il cavallo Ah ma dai Chi è che si sposta Un cavallo così Ragazzi Solo King Kong Può fare delle cose Devo trovare forse Qua in giro Delle tenaglie Qualcosa Quindi l'hanno trascinato Dove noi stiamo andando Ovviamente Perché giustamente Non vedevi l'ora Di Vediamo Non Non te ne accorgi Tane che questo villaggio È un po' strano No Maltrattano gli animali Sono delle capre Appese No Non ti rendi conto Che sia il momento Di far fusionare Sto trattore Ma niente Staranno giocando A poker Per forza Chiuso Il proprietario È sparito Cos'è Una gallina Un pollo Voglio il pollo È chiusa Ho capito Ho capito Dobbiamo per forza Entrare su una casa Con il fuoco acceso Quindi chiari Segnali Che qui c'è qualcuno E abbiamo sempre Godzilla Davanti alla porta Che si aspetta Cos'è Coltello Se Ti tagli Come il filo Spinanto Ok Adesso possiamo Prendere Soluzione medica Ok Tab L'inventario Ah ma l'inventario È molto più grande Degli altri resident evil Però Ok posso Sono full di vita Perché devo usarla Tra l'altro Vi ricordo che siamo Estrema E quindi Dobbiamo giocarcela Ma una torcia Ma una torcia Ma forse Sei un coglione Qua ci abitano Ethan Ci abitano Questo è brodo di topi Capito Capito Le patate le fanno ammuffare Per far insaporire il brodo Non hai capito un cazzo A parte dovresti esserci abituato A entrare in una casa De pazze No? Dal set Qua c'è Godzilla Che si lava Ma non è un bar Porca puttana Calmo Che sei? Che ti manda? Artemio C'è stato un incidente sulla strada Che succede? Bedo mio Grazie del follow Grazie bedo mio Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? No Un coltello No perché dovrei Personaggio di merda Non noti che c'è qualcosa Oh grazie Bedo Che prendi la Minchè il vecchio È più intelligente di te Cosa c'è là fuori Cosa c'è? Io pure vorrei capire Ehi Ma cosa Ma cosa Questo personaggio Sono altri Eh la moglie Il figlio Il frattere Tutta la famiglia Che se Bedo Allora Ragà È il personaggio Però Mi faceva simpatia Ma anche perché Era l'unica persona Intelligente Minchè C'era il bordello fuori Si sentiva Urli di mostri Chissà come Quello Perché dovrei avere un'arma? Perché? Che succede? Cioè ma Vi rendete conto Che è da arrestare Questo personaggio Cosa interagisce? Ma sono tutti uguali Infatti Scusa Ma comunque C'è una grafica assurda Tutti uguali Questi personaggi Guardate Basta Andalo a guardare Cosa è successo A questo posto? Niente Giocavano a poker Oh ragazzi C'è una grafica incredibile Doveste vedere Non so se si nota Ma dei dettagli Che ci sono Nei vol Oddio Ma cosa sei? Nel primo Adesso perdevamo la mano Qua un pezzo Oddio ma cos'è? Abbiamo la pistola Abbiamo la pistola Porca puttana Artemio Dai ma ci dovrai morire Prima o poi Non mi muore Non mi muore Sì sì Aspetta che io non so giocare La monstra testiera C3 Ricarica Ricarica Veloce Ma non muore Porco E ci fermiamo qui Ma hai 15 colpi Ma hai 15 colpi Ce ne vogliono 20 Per un nemico Sì ma ora che ci sono sti cosi Ma io è un baio di cazzi Che vado avanti Io non mi La metto a pacifica La modalità Però abbiamo la pistola Io direi di usare la soluzione medica Com'è che si faceva Qua usa Abbiamo la mano Mi faccio domanda